Dopo aver trovato la giusta carica, partono anche gli atleti della seconda batteria categoria G5. Otelli, Nuvolera, Capriano, Monteclarense, Valle Camonica, Mazzano, Springhedi, Ronco, Nuvolento, Team 2004, Bornato, Capriolo e Rodengo Saiano, le squadre che compongono il gruppo. Secondo giro e assistiamo subito a un attacco, è un portacolori della Monteclarense a proporlo. Nel gruppo è la Nuvolera che prova a ricucire lo strappo. L'azione di Begnoni della Monteclarense diventa sempre più consistente. Nel gruppo intanto i suoi compagni di squadra fanno buona guardia. Davvero complimenti a Gianmarco. Il suo vantaggio ormai è incolmabile. Nel gruppo si lotta per la seconda posizione. Arrivo trionfale per Begnoni Gianmario della Monteclarense, applaudito da tutto il pubblico presente per la sua bella impresa. La volata per il secondo posto è vinta da Parolari Marco della Nuvolera, davanti a Troncatti Mattia della Valle Camonica, Rodolfi Matteo della Nuvolento e Pastorelli Valerio della Monteclarense.